Abbiamo presentato oggi il calendario degli eventi organizzati in occasione dell'8 marzo dall'assessorato alle pari opportunità in collaborazione con la consulta per le politiche di genere. Si tratta di eventi che inizieranno il 5 marzo e termineranno il 29 aprile. Si tratta di eventi di vario tipo, dalla raccolta dei fondi allo spettacolo teatrale a momenti di approfondimento su temi che riguardano le donne da vicino, quali per esempio la posizione delle donne carcerate con i figli minori, piuttosto che i bambini dotati di alto potenziale cognitivo e il loro rapporto con la scuola e molte altre.